Pretendere, ovvero possibile, di partecipare a tutti quei momenti cross funzionali, aziendali, dove si disegna un processo, si crea un'opportunità, quindi avere da un lato la visione end to end, univoca, delle iniziative che vengono prese e averne consapevolezza, ma dall'altro provare a dare sempre la visione che un cliente avrebbe già in fase di studio, di disegno di quella iniziativa e per chi ci è dentro, io, l'altra soluzione secondo me e l'altro consiglio è provare a, conoscendo i clienti, quindi con tutta la raccolta dati, tutto quello che ci siamo detti, a personalizzare anche l'esperienza del servizio clienti che viene offerta. Tempi, modi, canali, linguaggi, ci sarebbe da parlare adesso delle segmentazioni, delle dimensioni fluide, liquide, tutto quello che volete voi dei clienti. Ne parliamo a 10 giugno. Esatto, però questo è, mi piacerebbe un customer care che capisca che sta parlando con Antonella e non con un numero o una pratica.